Io spero che il video vi sia... il video non è un video di... Ok, non so se toglierò qua questo pezzo, lo taglierò, non lo so, vediamo. Però c'è la signora che cerca i cani, ok. Io non capisco perché devo... Sì, ok, signora. Madonna, ma che imbarazzo, che cringe, ragazzi, stai... Sì, vabbè. Ebbene a tutti amici e amiche di YouTube e bentornati in questo nuovo vlog. Allora, ragazzi, sto fuori casa, sì, diciamo che sto facendo una passeggiata, e mi sono messo seduto sulla panchina, perché tanti, siccome tutti sanno che io sono a dieta, il presidente, e oggi il presidente si presta una piccola pausa dalle sue impegni quotidiani e sta facendo questo vlog proprio per voi, perché... diciamo che ci sono alcune novità del canale. Sì, perché credo, ci sto guardando intorno perché sembrano scemo per fare video così con il cellulare. Però vabbè, oggi è un caso speciale. Oh, non vuoi dirmi ciao? Eccezionale e quindi... intanto ci sono le macchine che appassano, come sempre. Infatti questo è un parco, quindi c'è un parco, diciamo, un piccolissimo parco. è molto poco curato come parco, come vedete, fa schifo come parco. Infatti è uno di quei parchi che sono anche a Milano, può essere vicino casa, e quindi siamo in periferia, quindi non è che molto curato, molto dettagliato, diciamo. Però ogni tanto vengono qua, tagliano l'erba, ma niente di particolare. Allora, anche le panchine sono vecchie, perché questa è una zona un po' vecchia, diciamo, del Fuligno. Cioè, vecchia, diciamo, siamo vicino al cimitero, quindi io di solito vengo qua e... e quindi... volevo dirvi che innanzitutto... intanto ci alziamo, così facciamo un paio di passi insieme. volevo dire che, praticamente, ci saranno delle novità nel canale. Ad esempio, ci sarà una serie nuova. Inizierà una serie nuova questa settimana. Sarà una serie subnautica, non so se qualcuno conosce il gioco. Sperando di riuscire a portarla avanti, come vedete qui la luce ce n'è poca. Ah, ecco, adesso va bene, adesso si vede proprio bene, guardo ragazzi. Poi, vabbè, io questo video non lo farò parodie, parodia, perché non serve adesso fare la parodie. Cioè, nel senso che al momento non ho alcun, diciamo, non ho, come dire, idee su che parodie fare. Se qualcuno mi volesse, diciamo, suggerire qualche parodia, basta che in descrizione o nei commenti mi dia il link della parodia e io la farò. Più che altro ci faccio una reaction, perché quelle per me sono reaction, però è uguale. E, niente, al momento sto passeggiando. Queste sono le case nostre, fanno schifo, so che fanno schifo, però vabbè. Infatti che qua siamo in periferia, non siamo in città proprio piena. La città sta dall'altra parte, però vabbè. Tre tagli. Questa è periferia, diciamo che stiamo andando sulle montagne, quindi quasi. E, praticamente, questa zona qui è una zona, praticamente, dove io di solito vado a camminare, perché poco più avanti c'è il campo da rugby. Noi abbiamo il campo da rugby a Foligno, vabbè, non si sa. E, niente, praticamente, ci saranno novità sul canale. Ci sarà questa serie che si chiama Subnautica, che è la serie di Subnautica. Ci sarà la serie nuova di Minecraft, fatta su un server, praticamente, si chiama GTA, GTM. E, niente. E, praticamente, ci sarà questa serie nuova su questo server, diciamo, molto più bello. Si chiama GTA, Grand Theft Minecraft, una cosa del genere. Comunque, c'è, praticamente, è in stile GTA, solamente per Minecraft, praticamente. Cioè, è Minecraft, però, in versione GTA. Praticamente, non me l'ha suggerita, stavo pensando, visto che il server è comunque un bel server, perché non farci, magari, che non so, dei video, magari, una serie, un attimo se farò una serie o dei video, non lo so. E, le live, voi dite, perché non fai live? Allora, io le live non è che non le voglio fare, le live. Il problema che fai live, è che se io facessi le live tutte le domeniche sere, o tutti i sabati sera, voi sapete che, sì, vabbè, voi sapete che io sono lì a fare la live, no? Però, comunque sia, io devo stare tutti i sabati, non sempre tutti i sabati, o tutte le domeniche posso stare in live. Cioè, perché? Perché se mettiamo conto, passano le macchine, se mettiamo conto che io, no, mi serve di stare, per dire, mi serve di uscire il sabato sera, non posso uscire. Hai visto due cagnolini piccoli? No. No. C'era la signora che mi ha chiesto se ce l'essero, se ho visto due cagnolini, ma io non li ho visti. No, assolutamente. No. Stanno là? È una, mi ne manda una. Eh, non so, dopo, ragazzi, che sono andati... Boh. No, io non li ho visti, non, ti giuro, non li avevo visti. Comunque, dicevamo, e niente. Praticamente, c'è la signora che qui cercava i suoi due cagnolini, e niente, praticamente, eccoci qua. Io spero che il video vi sia... Il video non è un video di... Ok. Non so se toglierò qua questo pezzo, lo toglierò, non lo so, vediamo. Però... C'è la signora che cerca i cani, ok. Io non capisco perché devo... Sì, ok, signora. Madonna. Che imbarazzo, che cringe, ragazzi. Sì, vabbè. La moda è fatta, credi, quindi... Comunque, dicevamo... La signora, non c'è sta il cane. Sto cercando il cane, la signora. Vabbè. Cioè, io, ma perché devo farsi i video quando ci stanno queste situazioni? E niente, praticamente, è quello che vi volevo dire. La signora. Vabbè. Sì. Black, intanto passano i camion, le macchine. Ma poi c'è qualcun altro? Ok. Basta così? Ok. Prima la signora, mo' di camion, mo' di... Sì, un altro. E che è oggi? La fiera dei camion è oggi? No, dicevamo? Niente, concludo qui il video. Io vi saluto. E se il video vi è piaciuto, mettete un like, commentate, condividete. E magari guardatevi anche gli altri video. Se vi piacciono i video parodie o divertenti. Comunque, io faccio un po' di tipo, tutti i tipi di... La signora, se è persa? Vabbè, se è persa la signora, Nardo. Mo' chiameremo la guardia nazionale qua, perché sicuramente, no? E niente, ciao a tutti da Cazzuoli. Ciao a tutti.